Presidente, per tutte le aree interne del Molise che rischiano sempre più di spopolarsi per mancanza di lavoro, che opportunità ci sono, quali sono le indicazioni, quali potrebbero essere le indicazioni ai comuni da parte dell'Anci? L'Anci conduce giornalmente una grandissima battaglia a Roma che in questi giorni si sta traducendo proprio in proposte di iniziativa legislativa a favore dei piccoli comuni. Basta pensare che l'unico provvedimento che in commissione andrà a settembre per quanto riguarda in commissione legislativa è proprio uno proposto dall'Anci che riguarda i piccoli comuni e firmato in prima linea dall'Anci Molise. Si tratta di misure che in qualche modo cercano vantaggi, benefici per le comunità dei piccoli borghi, quali sono quelli in cui noi viviamo. Poi il Molise è rappresentato soprattutto da piccoli comuni, quindi chiediamo defiscalizzazioni di tasse e opportunità che in altre parti vengono costantemente date. Ecco, già la possibilità di non avere ulteriori tagli come è successo nel 2016 dal fondo di solidarietà significherebbe dare sempre quelle forme di respiro che permettono ai comuni di non mettere tasse e quindi ingentivare chi ci sta a restarci. C'è un'idea di crescita turistica, infrastrutturale, sociale, occupazionale anche in questa parte estrema della regione Molise? Tutti i sindaci, tutti i comuni che gravitano intorno al lago chiedono in maniera molto forte e decisa in qualche modo investimenti e sviluppo dell'area. Siccome è un'area dove gravitano paesi anche pugliesi, si può creare una sorta di unione, una sorta di forza tra le due regioni che in qualche modo potrebbe attingere anche a contributi europei essendo due regioni unite da un unico obiettivo.